Siamo qui a Pechino per la settimana dell'innovazione della ricerca Italia-Cina, un'occasione di grande importanza per la collaborazione tra il mondo della ricerca italiana pubblica e privata e i colleghi cinesi, una partecipazione straordinaria, più di 200 persone, più di 150 realtà tra industrie, mondo universitario e enti di ricerca, si stanno svolgendo incontri, seminari, convegni, anche in alcuni momenti con la presenza del nostro ministro e personalmente come ministero siamo soddisfatti e anche orgogliosi di questa iniziativa perché mette a contatto due mondi che hanno molto da imparare l'uno dall'altro ed è un'opportunità per il mondo italiano di conoscere la realtà cinese ma anche di farsi conoscere e quindi di offrire opportunità ai colleghi cinesi per collaborare e cooperare. È uno degli obiettivi del nostro ministero, il mondo della ricerca vive di collaborazioni e quindi questa è veramente un'occasione straordinaria, si sta rivelando di grande utilità per tutti i nostri ricercatori e le nostre imprese che quotidianamente affrontano sfide che hanno bisogno di collaborazione e di integrazione a livello internazionale.